Politiche del lavoro, strategie industriali, sfide e impegni futuri in un mercato dell'occupazione euro-regionale sempre più interconnesso. Un seminario promosso dall'Ares, il Laboratorio Relazioni di Lavoro e Sindacali di TSM negli spazi formativi di Via Giusti a Trento. A fare gli onori di casa il segretario generale del GECTE Euregio Tirolo Alto Adige Trentino, Valentina Piffer. I convegni organizzati da AFI, Lares, Arbeiterkammer Tirol in collaborazione con il GECTE Euregio Tirolo Alto Adige Trentino sono un esempio efficace e di successo della volontà di conoscersi, di condividere per crescere insieme. Ad esempio analizzare la situazione occupazionale a livello euro-regionale permette di elaborare strategie di intervento comuni. Il direttore del Dipartimento Salute, Sport, Politiche Sociali e Lavoro della provincia di Bolzano, Michael Mayer, ha evidenziato come nel 2015 l'occupazione sia in costante crescita in provincia. Ma le sfide non mancano come ad esempio quelle che arrivano dal settore dei lavoratori stagionali, un tema da affrontare a livello trasfrontaliero. I mercati del lavoro non sono più locali come una volta, sia i lavoratori diventano più immobili che anche le aziende cercano sempre più personale anche oltre il confine. E il vantaggio di fare questo convegno all'interno dell'euregio è quello che parliamo di mercati di lavoro che sono abbastanza simili. Admin Egger dell'Arbiter Kammer tirolese si è soffermato sui working poor, persone che rimangono povere, meno del 60% del reddito medio, pur lavorando. La sfida nei prossimi mesi in Tirolo è quella di arrivare attraverso i 450 accordi collettivi di categoria a garantire un minimo per tutti i lavoratori a tempo pieno di 1.500 euro lordi mensili. Antonella Chiusole, dirigente generale dell'Agenzia del Lavoro della provincia di Trento, ha spiegato come nel secondo trimestre del 2017 il mercato del lavoro stia registrando indici di miglioramento soprattutto sul versante dell'occupazione femminile. Oggi abbiamo parlato soprattutto delle politiche attive, delle politiche passive che la provincia sta realizzando in questi anni. Sul piano delle politiche passive ormai abbiamo un sistema costruito ed articolato di sostegno al reddito per i lavoratori disoccupati e per i lavoratori sospesi e questo sistema integra e migliora la strumentazione statale. Il sistema delle politiche passive funziona però solo se è collegato con le politiche attive, cioè il concetto è che la persona che cerca lavoro riceve un'indennità e un'indennità maggiore rispetto al resto d'Italia ma per poter vivere e per potersi attivare a trovare lavoro. Partner del progetto Lares è stata l'arbeiterkammer tirolese ed IPL l'istituto promozione lavoratori della provincia di Bolzano.